Ciao ragazzi! Sì, oggi sono con la mia Panda 4x4 139, che pensate ad aprile del prossimo anno saranno 10 anni che con me, 208.000 km che ci siamo bevuti assieme, veramente in maniera impressionante. Abbiamo fatto di tutto, qualsiasi terreno, qualsiasi condizione climatica, strapazzata in mille modi, ma lei veramente se li è bevuti questi chilometri, questi anni, iperterrita. Faccio questo video per rispondere ad alcune delle vostre domande, quando avete visto che io su questa, che la uso tutti i giorni per lavoro, ho montato dei faretti supplementari. Essendo la Panda una macchina molto diffusa, ho visto che anche tanti di voi ce l'hanno, stavano pensando di fare questa modifica, ma volevano sapere qualche consiglio, un po' come avevo fatto io. Faccio questo piccolo video per rispondere un po' alle vostre domande. La Panda è sempre stata una gran macchina, fin dalle primissime due serie, passando poi per la 169, prima di arrivare a questa, che è la quarta serie, appunto, dal 2012. Devo dire che si presta veramente molto bene come macchina da lavoro, come macchina ricrazionale per chi va a pesca, a caccia, chi ama a fare trekking, è piccola, si infila dappertutto. Questa, poiché è la versione 4x4, veramente arriva in posti dove con altre auto facciamo più fatica e se la cava veramente alla grande. Forse la sua unica pecca è un po' la scarsa altezza da terra, ma comunque le vere soddisfazioni, cioè le soddisfazioni che la mia Pandina mi ha dato e che sta continuando a darmi in questi anni, veramente sono incredibili. Bene, vi faccio vedere un po' come ho installato io questi faretti, giusto per darvi un'idea e darvi qualche spunto. Eccoci qua ragazzi, ho montato i faretti supplementari perché io con la Panda, lavorandoci in campagna, essendo anche in una zona dove c'è veramente molta nebbia in inverno, mi trovo spesso a girare con delle condizioni climatiche pessime e quindi ho un aiuto maggiore diciamo in aggiunta a quelle che sono l'impianto luci di serie della Panda. Tra l'altro questa che è del 2013, a differenza credo delle ultime che escano già con delle fanallerie migliori, già con luci a led o comunque migliori rispetto a queste, queste qui ancora luci alogene, questi due faretti a led mi aiutano molto. Questi sono da 20.000 lumen e 200 watt, comunque fanno veramente un'ottima luce e danno il vantaggio di poter essere utilizzati sia come fari, sia come luci di emergenza, per quanto hanno delle X arancioni che si accendono all'occorrenza in caso si debba segnalare la nostra presenza, un'avaria o comunque un pericolo. Come si installano? Diciamo che la 139, la quarta generazione della Panda, la quarta serie, ci aiuta un po' in questo compito rispetto a quella precedente, alla 169, in quanto questa parte del paraurti in questo punto è piatta, a differenza appunto della precedente che invece rimane più spiovente, si riescono a installare anche lì ma bisogna fare qualche altra modifica in più, qualche altro passaggio in più, un po' più ostico. Quindi sfruttando la parte piatta qui del paraurti, si riesce facilmente a fissare le due staffe piatte di supporto tramite due bulloni dei faretti, li si posiziona e poi si fa partire il cablaggio, quindi portando dentro i cavi e posizionando un fusibile di sicurezza tramite il quale prendiamo poi la corrente e la portiamo all'interruttore che ho in cabina che appunto comanda le luci. Come vi dicevo ragazzi, vedete questa parte del paraurti è piatta e quindi ci agevola molto nel posizionare le staffe di supporto dei faretti, proprio basta forare e si avvitano, si imbullonano. Tra l'altro qui la plastica è veramente spessa, sono 6 mm di spessore, le avevo misurati e veramente si prestano molto a fare da base per i supporti dei faretti. Tra l'altro anche andando smorzano veramente tanto le vibrazioni, vi è sufficiente mettere una rondella o comunque un pezzo di metallo da rigidire un po' la tenuta della staffa anche internamente nella parte sotto del paraurti, la parte interna, ma il gioco è fatto. E la cosa bella è che uscendo comunque in fuori questa parte del paraurti rispetto al resto, fa rimanere perfettamente in sagoma i faretti, quindi non abbiamo nemmeno quel problema sulla nostra Panda. I cavi elettrici dei due faretti ragazzi li ho inguainati e trasportati all'interno del vano motore passando di qua, per poi farli passare e portare dove ho posizionato il fusibile. Qui ragazzi sulla scatola fusibile di serie ho posizionato il fusibile nautico che all'occorrente se ci sono problemi si stacca da solo proteggendo il circuito e queste due T che praticamente fanno confluire i due fili elettrici dei faretti che azionano uno, diciamo, il fascio di luce e l'altro la X arancione d'emergenza, me li accoppiano da due, diventano uno solo che va poi in abitacolo all'interruttore per essere azionato. Ciò che frena molti di voi quando devono fare questi lavori è sempre, soprattutto su queste auto moderne, come far portare poi in abitacolo i cavi elettrici. Questo perché, ad esempio, sul mio Samurai dell'88 è veramente una stronzata farlo. Il parafiamma è un lamierino sottile e ha già dei fori predisposti addirittura con i gommini forati al centro per poter far passare i cavi degli accessori elettrici e portarli agli interruttori in cabina. Qui bisogna ingegnarsi un po' di più, comunque, io ho sfruttato, diciamo, la parte superiore del passaruota ingueinando i fili all'interno di una guaina resistente all'alte temperatura, agli strappi impermeabile, l'ho fatta scendere di qua e, sfruttando un gommino già predisposto con un foro passante dalla Fiat, l'ho fatta entrare in abitacolo da qua. Quello che ho dovuto fare è stato solo fare un piccolo foro nella parte interna della scocca in maniera da accedere all'intercapedine tra i due bordi, prendere i fili che sono entrati invece dal foro che la Fiat aveva già predisposto, portarmeli qui in abitacolo e farli salire all'interruttore che ho posizionato qui. In questo modo io comando le luci, tirandole in su accendo i fari, al centro l'interruttore stacca tutto, in basso attiva le X d'emergenza. In questo caso io ragazzi ho preferito optare per un singolo interruttore, in maniera da creare tutto, diciamo, un avere una cosa il più pulita possibile, ma nulla vieta che potessi tenere separati i fili e portarli ognuno a un interruttore dedicato, magari facendo un pannellino, niente di più facile. In maniera che potevo comandare con uno solo i fari, con l'altro solo l'X d'emergenza e magari portare due fili anche a un terzo interruttore che mi azionasse entrambi assieme. Non abbiamo, diciamo, limiti da questo punto di vista. Con uno unico io ho tenuto una cosa abbastanza pulita come nell'insieme, molto anonima, e mi va bene così. Bene ragazzi, spero che abbiate trovato utile e interessante questo piccolo video. Mi avevate chiesto appunto di parlare su come si esegue l'installazione di questi faretti sulla Panda 4x4, ma le stesse operazioni valgono su qualsiasi vettura, veicolo, quando andate a installare dei fari supplementari, delle barre a LED, quello che è. Due cose mi preme dirvi per ultimo. Allora, queste luci supplementari non si possono usare su strada, quindi la cosa veramente importante è che voi andiate a realizzare sempre un circuito a parte con un interruttore dedicato esclusivamente ad accendere e spegnere le luci supplementari. Non si possono collegare all'impianto luci generale della macchina. Quando io accendo i miei fanali, anabbaglianti, abbaglianti, fendinebbia, quello che è dell'automobile, non si devono attivare queste luci qua. Quindi metteteci sempre un suo interruttore dedicato e poiché altro. Sì, la seconda cosa, so che in alcune zone d'Italia le forze dell'ordine vogliono che si circoli con i fari coperti. Infatti vendono delle calze apposta, anche i produttori stessi dei faretti fanno dei coperchi. Cambia da zona a zona, nella mia zona non è richiesto questo, la cosa importante è che siano escluse dall'impianto luci generale dal circuito della macchina. Devono avere un loro circuito, un loro interruttore dedicato. Se poi invece fate viaggi lunghi con la vostra macchina, allora vi consiglio anche di dotarvi di una copertura per essere sicuri di non avere storie quando girate. Io ragazzi spero che vi sia piaciuto. Se avete delle domande o se avete fatto anche voi degli impiantini sui vostri mezzi, scrivetemi nei commenti come avete fatto, che sono sempre interessato a trovare nuove soluzioni, nuovi metodi. Se non l'avete ancora fatto vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video che usciranno. Mi trovate anche su Instagram Andrea Mantovani Official e su Facebook. Noi ragazzi ci vediamo con un prossimo video. Ciao, a presto, statemi benone.